Allora auguri a voi tutti, in arabo quando celebriamo la festa della Pasqua non diciamo Buona Pasqua, ma perché abbiamo fatto l'esperienza di Cristo risorto diciamo che vuole dire Cristo risorto è veramente risorto, in inglese si dice In francese diciamo in greco che vuole dire io ho fatto l'esperienza della risurrezione di Gesù in me l'ho visto risorto e così tutta la mia vita è cambiata veramente ho una grande gioia con il Santo Spirito in me di amare questo Dio che è venuto fine da me per mi dare questa risurrezione così posso veramente cantare con grande gioia questo amore di Dio per me e per noi tutti perché io oggi con voi facciamo tutti questa esperienza della nostra risurrezione così possiamo amare gli altri e amare ancora i nostri nemici, è molto impossibile di amare i nemici ma Gesù mi dà la grazia con il suo Spirito Santo di amare i miei nemici basta con la sua grazia con il Santo Spirito Santo possiamo avere questo amore allora auguri a tutti Cristo risorto veramente risorto però è stato assolutamente risorto grazie a tutti